Carissimi, buongiorno. Intanto che finite di ascoltare la lezione di oggi di sociologia delle organizzazioni, di psicologia, io carico questo video sugli elitisti. Naturalmente se continuate a guardare il video accettate implicitamente il disclaimer che è scritto sotto. Allora, per prima cosa diciamo che gli elitisti sono l'unica tendenza che si è imposta nella sociologia italiana. Partiamo da Mosca. Nasce a Palermo e fu professore prima a Milano, prima a Torino, poi a Roma e in seguito anche senatore. Si impose al fascismo abbandonando l'attività politica. Allora, il pessimismo degli elitisti nei confronti della democrazia si fa risalire al governo de Pretis, che a tutti gli effetti ha tradito il mandato dei suoi elettori. Con l'avvento del governo Crispi si accentua l'antisocialismo degli elitisti. Mosca critica la tripartizione aristotelica, monarchia, oligarchia e democrazia e afferma che il governo è sempre costituito da un gruppo minoritario organizzato che domina una maggioranza disorganizzata. I tipi di governo divengono quindi la sola giustificazione di come chi detiene il potere lo esercita. Mosca parla di formula politica. Il potere del Parlamento viene dal re, il potere del re viene da dio e tutti i poteri derivano dalla volontà popolare. Anche nella monarchia comunque vi è l'apparato dei funzionari, cioè una minoranza organizzata. Mosca cerca la migliore forma di governo, ma scarta quella parlamentare. La formazione della classe politica in passato avveniva in base alla forza, successivamente in base alla ricchezza e ora in base al merito personale. Mosca auspica la superiorità morale sul denaro e afferma che le classi politiche sono destinate ad essere composte da classi sociali differenti. Quindi anche a causa della situazione politica italiana, egli ammorbidisce un pochino le sue reticenze contro il governo parlamentare. Egli individua tre tipi di organizzazione oligarchica. Quello feudale, quello burocratico e lo stato città. Mosca auspica una forma di governo mista, in cui non prevalga nessuno dei tre. Cioè né quello autocratico, né quello aristocratico, né quello democratico. Perché teme le rivoluzioni violente e improvvise che lui chiama le barbarie, ma contemporaneamente teme anche il suffragio alle categorie più basse della popolazione. Distribuire il voto ai più, ai citi più bassi, per lui è un dramma. Pareto inizia il suo trattato di sociologia generale, 1916, deridendo coloro che avevano riposto nella scienza la fiducia in un miglioramento della società. Egli basa la sociologia sul metodo logico-sperimentale, cioè che si attende realmente ai fatti, non come i positivisti o i sociologi cattolici, che in sostanza proclamavano veri scientificamente alcune teorie solo perché le ritenevano valide praticamente. Si convinse che gli aspetti irrazionali dell'uomo avessero un peso maggiore rispetto a quelli razionali. Nacque a Parigi ma poi si trasferì in Italia. Fu un iniziale sostenitore del liberismo economico e si convinse che l'economia non poteva spiegare l'essere umano e passò quindi alla sociologia. Anche se fu prima rappresentante e senatore dell'Italia fascista, rimase cauto nei confronti del fascismo e più in generale un ottimista. In lui è fondamentale che lo scienziato si attenga solo ai fatti per osservarli attentamente. Ecco che il suo ottimismo diventa ottimismo epistemologico, che per Pareto è alla base di tutte le sue teorie. Per questo sociologo le azioni logiche uniscono i mezzi al fine e il fine è razionale solo quando il fine oggettivo è identico a quello soggettivo. Ma nella società domina l'azione non logica perché è basata su stati d'animo soggettivi. Per esempio il darwinismo sociale, cioè quello che pretende trovare utilità a tutti gli atti della vita o tutte le attività umane. Oppure il materialismo storico, che cambia l'interdipendenza fra economia e fenomeni sociali, causa-effetto. Quindi la teoria di Marx, secondo Pareto, è un'utopia. Allora, una teoria fondamentale di Pareto è quella dei residui e delle derivazioni. Cosa sono i residui? I residui sono manifestazioni di sentimenti e forze irrazionali. Essi sono distinti in sei classi, permettetemi di leggerle. Primo, l'istinto delle combinazioni. È l'istinto umano di affare accostamenti e riunirsi. Il secondo, persistenza degli aggregati. Cioè, una volta definite o fatte le combinazioni, queste vengono considerate stabili. Terzo, bisogno di manifestare con atti esterni i sentimenti. è abbastanza evidente. Quarto, relazioni con la società. Quinto, integrità dell'individuo e sue dipendenze. Cioè, il senso, ad esempio, il senso della proprietà. Sesto, il residuo sessuale. Visto che l'attività umana è basata sui residui, secondo Pareto, ogni tentativo di spiegarla senza considerare l'irrazionalità, è destinata a fallire. L'uomo però non vuole essere irrazionale. Da qui il suo bisogno è di giustificare a posteriori il proprio operato. Come? Attraverso le derivazioni. Permettetemi di leggere anche quelle. Prima, aspettate un attimo, la prima derivazione è l'affermazione. La seconda è l'autorità. Il terzo è l'accordo con i sentimenti e i principi. Il quarto sono le prove verbali. Praticamente le prove verbali sono legate all'imprecisione del linguaggio. Per Pareto, l'unico metodo possibile è quello logico-sperimentale, come abbiamo già detto. Vi è un costante ricambio della classe eletta di politici, perché la società è eterogenea. L'uso della forza, secondo Pareto, è indispensabile per governare e la condanna di questo uso avviene sempre da una parte sola, quella che non lo usa, unilateralmente quindi. Ad ogni mutamento di un settore corrisponde un mutamento dell'intero sistema. Questo equilibrio è dato dai residui e non dalle derivazioni, dal lato irrazionale. Pareto è criticato per aver limitato l'animo umano e aver ridotto la storia ad un circolo prestabilito, predeterminato. In questo senso possiamo ritenere Pareto un precursore dei funzionalisti. Nelle sue teorie troviamo una grande scissione fra scienza e realtà e soprattutto la demistificazione delle ideologie. Passiamo ora a Michels. Egli fu un attivista di sinistra e fu ostacolato nella sua vita accademica in Germania, quindi si trasferì in Italia. Aderì al fascismo perché si convinse della inutilità dell'azione diretta e la necessità delle organizzazioni politiche e burocratiche. La sociologia del partito è l'opera di Michels dove sostiene la necessità di una minoranza organizzata al governo. La minoranza è specializzata, mentre la massa non lo è e non può quindi governare. Secondo Michels il partito politico deve avere una struttura gerarchica organizzata. E la democrazia, per Michels, è una finzione, è una bugia. Perché? Perché anche nei regimi marxisti o nelle democrazie parlamentari, in sostanza le oligarchie hanno sempre preso il sopravvento. Michels non fa distinzione tra regimi che includono la proprietà privata o meno e si limita all'analisi e lo studio della formazione di un solo partito politico. Queste sue tendenze antidemocratiche saranno successivamente riprese da Michels. Bene, questi erano gli elitisti. Se vi è piaciuto, pollice in su, non dimenticatevi, perché a me fa piacere vedere che n visualizzazioni corrispondono a n pollici, se vedo n visualizzazioni e un pollice vuol dire che o è sempre lo stesso che guarda il video e allora caro amico chiamami perché si vede che è, oppure vi siete dimenticati. Dai, su, un pollicino, forza, cliccare lì, iscriviti, campanella e via. Al prossimo!